Questa è una guerra a tutti gli effetti. Io ricordo, essendo stato facile profeta, me ne dispiace, non ne sono contento, che dopo gli attacchi di Charlie Hebdo, avevo avuto modo di dire guardate che questa è una guerra, una guerra simmetrica, ma una guerra dichiarata all'Europa. La risposta purtroppo era stata fatta in modo bizzarra da parte di alcune forze politiche, dicendo siete pazzi, volete sciacalli, il presidente del consigliato di sciacalli, lasciamo perdere. Non ci interessa dire abbiamo una torta ragione, ci interessa però che adesso le risposte arrivino. E cosa vuol dire? Vuol dire iniziare a controllare e nel caso fermare gli ingressi illegali dei confini. Noi non sappiamo in questo momento chi è presente sul territorio nazionale, l'ha confermato lo stesso ministro dell'Interno, le persone che non si vogliono registrare sono riuscite libere di circolare. Chi sono? Da dove vengono? È stato preso in Sicilia una persona allontanata per terrorismo che aveva cercato di risbarcare. A Merano viveva una persona che faceva reclutamento di terroristi. Allora, prima cosa. Seconda cosa. Facciamo un serio screening, noi 500 persone di cui ci ha parlato il ministro dell'Interno, delle comunità islamiche presente sul territorio nazionale. Perché da lì la stragrande maggioranza sono bravissime persone, non faranno mai niente, però dobbiamo avere certezza di chi sono. Non si può dire siamo tutti buoni. Terzo, non si può permettere che i tagliagolle dell'Isis continuino ad agire indisturbatamente, tranne l'intervento russo in Siria, in Iraq e in Libia. Bisogna intervenire. Non si può intervenire soltanto quando c'è un interesse petrolifero, bisogna anche intervenire per difendere le vite umane. Ad Aleppo 100.000 cristiani sono stati estirpati dalla loro terra, cacciati e lo stesso vescovo di Aleppo dice non accogliete tutti in Europa, ma permetteteci di rimanere qua. Purtroppo c'è stata o una sottovalutazione, mi auguro che nessuno sia stata una sottovalutazione controllata, però di quanto stava avvenendo in quei territori. Grazie.